è stata davvero una puntata piuttosto pregna quella di ieri 20 febbraio 2018 dell'isola dei famosi infatti tante sono state le cose che sono accadute che si sono verificate in primis le nomination infatti le nomination sono andati o meglio vanno Paola, Franco e Nino per quanto riguarda invece la eliminazione della puntata di ieri è stata quella del buon Filippo Nardi famoso personaggio appartenente al mondo della tv in quanto in tempi molto passati, in tempi quindi remoti partecipò al reality show Il Grande Fratello e poi ci sarebbe stata la sospensione dall'isola dei famosi del buon Giucas Casella però non intendo entrare nel merito perché sono comunque questioni che riguardano il programma in questione non voglio essere troppo drammatico poi nel dare ulteriori dettagli aggiuntivi e per finire come ciliegina sulla torta la bella Elena Morali e il simpaticissimo Simone Barbato che ti ricordo e che vi ricordo è stato il mimo di Avanti Un'Alto il gioco televisivo di Canale 5 condotto magistralmente da Bonolis con la co-conduzione di Laurenti su Canale 5 i quali appunto sia Elena Morali che Simone Barbato vanno all'isla Bolita e poi come altro fatto ti ricordo che è arrivata in studio la bellissima Cecilia Capriotti è stato un momento davvero estasiante in cui Cecilia ci ha regalato emozioni davvero uniche emozioni che noi maschietti ovviamente abbiamo potuto apprezzare e è riuscita a farci alzare molto bene il morale bene, complimenti dunque a tutti quanti i personaggi ovviamente di questa isola dei famosi 2018 che si trovano ovviamente in questo reality show che stanno affrontando che stanno partecipando complimenti di Vivo Cuore, ripeto, il video termina qua fatemi sapere il vostro parere, la vostra opinione, il vostro giudizio a proposito di quest'isola dei famosi 2018 complimenti Paola, complimenti Franco Nino complimenti anche a Filippo Nardi, Aina e Simone Barbato ma complimenti vivissimi di gran cuore soprattutto a lei e a Cecilia Capriotti che ieri ha decisamente emozionato molti maschietti bene, saluti, il video termina qua, a presto